Musica Buona domenica e benvenuti al consueto riepilogo dei principali fatti della settimana che si è appena conclusa. Iniziamo con lunedì 16 gennaio. Maltempo e neve in aumento a pretralia soprana, scuole ancora chiuse. La neve ha causato il blocco di numerose arterie lungo le madonie ma anche disagi in zone collinari. Dopo una breve pausa, durata soltanto qualche giorno, la situazione per il maltempo è diventata nuovamente critica. Ormai nevica ininterrottamente da quasi una settimana. In questo contesto l'attività dei carabinieri della compagnia di Petralia Sottana è stata indispensabile non soltanto per monitorare la viabilità sulle principali arterie stradali al fine di evitare che mezzi pesanti ed autovetture sprovviste di catene o pneumatici da neve potessero creare intralcio alla circolazione ma in modo particolare per dare la necessaria assistenza ai cittadini madonite e turisti che già dalla giornata di ieri hanno raggiunto la località di Piano Battaglia. Gli interventi, giunti direttamente al numero di emergenza 112 ed anche le richieste pervenute alla centrale operativa della compagnia di Petralia Sottana che è stata rinforzata in occasione di questa emergenza anche per poter fronteggiare in modo adeguato i disagi patiti alla gente, sono stati molteplici. Le attività di intervento messe in atto degli uomini dell'arma hanno riguardato cittadini rimasti in panna a bordo delle proprie autovetture. Molte di esse sono state aiutate a montare le catene, tra queste una famiglia che nel rientrare da Piano Battaglia dopo una mattinata di divertimento rompeva le catene rimanendo bloccata sulla strada ghiacciata e sotto una bufera di neve. Il provvidenziale intervento dei carabinieri ha consentito di prestare il necessario soccorso e scongiurare il peggio. Intanto per via delle temperature rigide a Catania è stata realizzata una tendopoli per ospitare senza tetto. La temperatura è ripresa a scendere, abbiamo approntato 30 posti per i senza fissa di mora che domani diventeranno 60, l'ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco, parlando della tendopoli creata in piazza Giovanni Falcone per fronteggiare l'emergenza e ribadendo che finché il freddo proseguirà il comune continuerà a coordinare l'attività dei volontari per mettere a disposizione dei senza fissa di mora dei presidi per trascorrere la notte al caldo. Rosario Crocetta è ultimo in Italia per gradimento fra i governatori di regione, lo rivela una classifica stilata dal sole 24 ore, tra sindaci invece Leoluca Orlando arriva al trentesimo. Rosario Crocetta finisce in coda la classifica di gradimento dei governatori italiani stilata dal sole 24 ore. Il dato è ufficiale ed emerge dal sondaggio annuale Governance Pool. Non si tratta di un consenso elettorale ma di un sondaggio tra i cittadini volto a giudicare la figura del sindaco nel suo complesso e del governatore della regione in una miscela di elementi che va dai fattori emotivi e d'immagine a quelli di attività amministrativa. Il presidente della regione siciliana è dunque il meno apprezzato ed è preceduto dai presidenti del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani, e della Sardegna, Francesco Pigliaru. I siciliani che si dichiarano pronti a riconfermarlo alle prossime elezioni di ottobre sono appena il 28%. In coda ci sono comunque tutte le regioni del sud. Crocetta, che riesce a conquistare l'ultimo gradino della scala, perde ulteriormente rispetto allo scorso anno un altro 3,5% di consensi. Diversa la situazione nella classifica dei primi cittadini. A Palermo, Leluc Orlando arriva a trentesimo pur perdendo consenso. Insieme a lui in Sicilia, pari merito al trentesimo posto il sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo. In discesa al quarantatresimo posto Calogero Firetto. Il sindaco di Agrigento nel 2015 si piazzava al ventesimo posto, primo tra i siciliani. Più giù ancora al settantunesimo posto il sindaco di Siracusa Giancarlo Garozzo. Insieme a Enzo Bianco, sindaco di Catania e a Maurizio Di Pietro di Enna. Ragusa, Messina e Trapani invece è Fanalino di Coda. Al novantottesimo posto troviamo Federico Piccitto e Renato Accorinti. Mentre al centoduesimo Vito Damiano. Salvo Ficarra e Valentino Piccone hanno presentato alla Cinema Arlecchino di Palermo il loro ultimo film dal titolo L'ora legale. E' un racconto che sicuramente prende spunto da un paese immaginario. Non ti sbottonare. Pietra a mare. Rimani abbottonato. E che altri e che molti ci leggono una... Ingiustamente. Ingiustamente e ci vedono una metafora dell'Italia. Vola a basso. E sono accadute delle cose che sono molto simili a quello che succede nel film. Cioè sindaci che vengono eletti a furor di popolo e a tutto quanto. E alcune volte abbiamo dovuto cambiare la sceneggiatura per evitare che ci denunciassero. E speriamo di non aver anticipato i tempi però. Anzi di essere smentiti. Un film che è stato girato in Sicilia a Termini Merese. Voi avete detto che difficilmente si poteva girare in un'altra parte. Un film corale. Come è stato essere accolti da una cittadina come Termini Merese. E gestire tante tante figure anche. Siamo stati molto contenti perché Termini ci ha accolto. Ci ha veramente tenuto compagnia. Ci hanno coccolato. Li ringraziamo. Ringraziamo tutti i Termitani. Ci scusiamo per i disagi che abbiamo provocato. E poi siamo stati felicissimi. C'erano un sacco di colleghi bravissimi che ci hanno aiutato. E anche facilitato il lavoro. Con la loro bravura. Quanto è stato facile mettere due teste insieme per scrivere un'unica sceneggiatura su questo tema importante? Ma ormai siamo rodati. Facciamo film insieme. Noi siamo insieme da 23 anni. Per cui ormai siamo molto rodati. Per cui diciamo ci diamo qualche testata ogni tanto. Però poi passa. Pensate di esservi superati? A mio avviso sì. Ma avendo visto il film. Nel senso che si pensa sempre di poter fare del meglio. Ma è sempre più difficile. Ma in questo caso voce di popolo. Voce che si è sentita all'interno della prima messa in onda. Sembrerebbe che Ficchera e Piccone si sono anche superati stavolta. E devi vedere il prossimo. Io sono una cittadina prima dolce dolce poi arrabbiatissima come la stragrande. Proprio incazzata. Sì 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 devo dire sono uscita fuori in questo film abbastanza aggressiva. E non si può dire le esclamazioni. Quella non la possiamo svelare. Non la possiamo dire. Quella la scoprita. La scoprita. Ma è incazzata. È incazzata. È incazzata. Godibilissimo. Secondo film con salvo e pezzo. Sì secondo film il primo mio è stato la matassa che non è il primo loro naturalmente. Bello bello l'atmosfera bello il film perché dice molto di più della risata. Noi andiamo là con l'aspettativa della risata ma invece dice molto di più e riesce a fotografare un momento ma non solo dell'Italia un momento storico storico importante dove si parla di legalità e poi non sappiamo se fino a che punto siamo pronti per cavalcare questa legalità. Io sono l'amante di Mary Cipolla. Sì. Avrebbe voluto farlo in realtà ma non sveliamo. Ma non da adesso da sempre. Da sempre. Da sempre. Da sempre. E quando salvo e Valentino mi hanno offerto questo ruolo ho accettato subito perché sapevo che avrei avuto questa scena d'amore con... No perché io lo ascolto e sembra che sta per dire una cosa seria e poi continua. E questo attira. Scene d'amore, scene hard attirano. Gli spettatori. Quando ho audience. Quindi ci sta svelando la sua scena d'amore con Mary Cipolla all'interno del film. Purtroppo la scena quella più bella è stata tagliata ma l'abbiamo girata. L'abbiamo girata. Ma è stata tagliata per chi? È stata tagliata perché non rendeva bene il conflitto maschile. Così dicevano. No il fatto è che c'era troppo sentimento e sai certe cose invece vogliono altro. Martedì 17 gennaio protesta degli esperti delle politiche attive del lavoro di fronte alla presidenza della regione. Quasi 2000 lavoratori della formazione fuori dal mondo del lavoro da circa tre anni. Oggi davanti alla presidenza una vicenda che va avanti già da parecchi mesi. Gli esperti di politiche attive del lavoro. Ancora una protesta perché non si è mosso nulla. Ci sono state tante promesse ma gli esperti delle politiche attive del lavoro sono ancora vergognosamente fermi. Non comprendiamo l'atteggiamento del governo che fa tante proposte e promesse ma di fatto non ha fatto nulla. Circa 1900 lavoratori fuori dal mondo del lavoro da quanto? Dal 2013. Promesse varie per collocare questi lavoratori all'interno dei centri per l'impiego. Ma di fatto questi lavoratori e la dignità di questi lavoratori viene tutt'oggi calpestata vergognosamente. Una norma maggio varata dal Parlamento siciliano che sembrava la panacea dei vostri problemi. Ma poi? Poi nulla. Di fatto la norma è stata attuata, è stata approvata. Ma tutte le procedure di attuazione affinché questi lavoratori venissero collocati per avviare l'attività lavorativa. Di fatto non è accaduto nulla e attualmente dopo anni ancora questi lavoratori sono fermi senza lavorare. Io volevo dire che purtroppo è tre anni che viviamo uno stilicidio. Stiamo vivendo una situazione tremenda di precariato indicibile. Il governo fa promesse che non mantiene, ci sono stati colleghi che si sono suicidati, famiglie ridotte all'astrico, donne, madri di famiglia, io per prima con dei bambini buttati in mezzo a una strada. Vorrei capire perché noi dobbiamo pagare un prezzo altissimo per colpe che non sono nostre, cioè i nostri detrattori che ci hanno buttati in mezzo a una strada, che si sono presi i nostri soldi e noi paghiamo le conseguenze per chi? È proprio il Parlamento siciliano che forse ha qualche colpa. Assolutamente è una colpa che è legata alle scelte e agli orientamenti del governo regionale. La colpa è stata quella di aver creduto in un Presidente della Regione che ha continuato, proclami dopo proclami, a dare garanzia a questi lavoratori. La legge c'è, i 35 milioni di euro sembravano essere stanziati, la promessa in maniera con dichiarazioni decise o più che la promessa le dichiarazioni decise da parte del Presidente della Regione in Parlamento sono arrivate, alla presenza di tutti gli assessori. Non si capisce quindi perché ancora non seguono i passaggi consecutivi. È stato sottolineato che questi formatori realmente sono dei dipendenti di enti privati, però di contro gli è stata aperta poi la finestra con questa norma, ma è un tiro e molla che ancora non ha portato a nulla. Assolutamente, sono dipendenti che avevano un buono stipendio e soprattutto un servizio erogato in termini di grande utilità. Politiche attive del lavoro che servivano al territorio, che servivano al mondo della scuola, al mondo della formazione, ma soprattutto a tanti utenti che per anni si sono rivolti loro. Al liceo classico scaduto di bagheria non funziona il riscaldamento e gli studenti sono costretti a stare in aule molto fredde, non adatte al normale svolgimento delle lezioni. Da mesi cerchiamo di sollecitare la dirigenza per cercare di risolvere il problema che sapevamo prima o poi avremmo dovuto affrontare. La preside sta facendo e ha fatto di tutto, tutto quello che era nelle sue possibilità, però purtroppo con l'aggravarsi delle condizioni climatiche siamo arrivati adesso al 17 gennaio, dove la scuola è gelida, centrale succursale comprese, i ragazzi sono costretti a trovarsi in un ambiente poco confortevole, aggravato appunto dalle condizioni climatiche. Noi stiamo cercando di muoverci per come possiamo, per cercare di risolvere questo problema. È un problema che riguarda tutta la scuola, in primis la succursale, visto che è un edificio privato, anche se la scuola si sta muovendo. Quindi la succursale ci riferiamo all'ex istituto d'arte in via Dante. Ecco, su quello c'è qualche novità? Sì, la preside si è in mossa, ieri era in riunione con la dirigenza dell'artistico, stanno cercando di muoversi, il problema erano dei documenti, forse la caldaia stessa o qualcosa che non funzionava benissimo, stanno cercando di muoversi e atteniamo risposte. Io oltre ad essere rappresentante di istituto sono rappresentante di consulta, insieme ai ragazzi di Palermo stiamo cercando di muoverci attraverso un evento social su Facebook, che ha il nome di Play Day, su cui verranno postate tutte le foto dei ragazzi con Play, con coperte, per cercare di divulgare, di far conoscere la situazione che stanno vivendo la maggior parte delle scuole di Palermo. L'appello che vogliamo fare è sicuramente al sindaco della città metropolitana, Leo Luca Orlando, e agli organi di competenza, affinché si muovano in tempi rapidi per dare delle risposte adeguate al problema. Ora è subito. La soluzione è vicina. Ieri il dirigente ha incontrato la proprietà dei locali che noi abbiamo in via Dante, qui dove abbiamo la succursale, e già c'è stato un incontro e stanno provvedendo a riattivarla. Quindi a questo punto la situazione, diciamo, c'è bisogno di qualche giorno, ma presto la caldaia sarà riattivata. La situazione invece qui in centrale è più complicata, perché come voi sapete noi avevamo un interlocutore che era la provincia. Oggi le province sono state abolite e quindi l'interlocuzione diventa più complicata per questo. Il fatto, c'è anche da dire, è che la caldaia che noi abbiamo qui nella centrale è un po' vecchiotta e quindi avrebbe bisogno di interventi più strutturali. Comunque anche qui il dirigente ha incontrato fino a ieri i rappresentanti della provincia e stiamo tentando anche qui, diciamo, di dare delle risposte. Palermo si spopola sempre più, secondo il report dell'Ufficio Statistica del Comune, sono quasi 5.000 in meno i residenti in città nell'ultimo anno. La popolazione residente a Palermo al 31 dicembre del 2016 è risultata pari a 669.329 abitanti. Rispetto al 2015 si è registrata una diminuzione di 5.106 unità, determinata da un saldo naturale negativo per 666 unità e da un saldo migratorio e per altri motivi negativo per 4.400 unità. I residenti di sesso maschile sono 319.710, in diminuzione di 2.476 unità rispetto al 2015, mentre i residenti di sesso femminile sono 349.619, in diminuzione di 2.630 unità rispetto al 2015. Scomponendo la variazione registrata alla popolazione residente nelle singole componenti si evidenzia un saldo naturale nati e morti, un saldo migratorio e per altri motivi scritti cancellati, entrambi negativi. In particolare il saldo naturale per la quinta volta consecutivo negativo è risultato pari a meno 666 unità, mentre il saldo migratorio e per altri motivi è risultato pari a meno 4.440 unità. Con riferimento al movimento naturale della popolazione, nel corso del 2016 si sono registrati 5.725 nati, in diminuzione del 7,9% rispetto ai nati del 2015. Il numero dei nati del 2016 è sceso per la prima volta sotto quota 6.000 ed è ai minimi degli ultimi 50 anni. Sul fronte delle cancellazioni si sono registrati 13.456 emigrati, in aumento del 5,7% rispetto al 2015. In particolare gli emigrati verso altri comuni italiani sono aumentati dello 0,8%. Gli emigrati verso l'estero, che già negli anni più recenti avevano fatto registrare sensibili incrementi, sia in valore assoluto che in termini percentuali, rispetto al 2015 sono ulteriormente cresciuti, passando da 2.306 a 2.950. Mercoledì 18 gennaio, Fabrizio Ferrandelli, candidato sindaco di Palermo, indagato per voto di scambio ad accusarlo, è il boss del Borgo Vecchio, Giuseppe Tantillo. Fabrizio Ferrandelli, il candidato sindaco di Palermo, è indagato per voto di scambio politico mafioso, ad accusarlo è il boss del Borgo Vecchio, Giuseppe Tantillo, che collabora con la giustizia dal 1 settembre e che nelle scorse settimane è stato al centro di due diverse operazioni di polizia. La procura ha così notificato un avviso di comparizione a Ferrandelli relativamente ad una indagine che riguarda la campagna elettorale del 2012. lunedì prossimo sarà interrogato dai PM antimafia ed ha già fatto sapere che risponderà. Anzi, sperava che lo convocassero prima in modo da poter chiarire la propria posizione. Il pentito parla di un pacchetto di voti che Ferrandelli avrebbe pagato ad esponenti del clan di Borgo Vecchio, 100 euro a voto secondo le sue rivelazioni. Rimango sorpreso come, dopo quasi 5 anni, ha commentato amareggiato Ferrandelli proprio nel pieno di una campagna elettorale in cui sto registrando grande entusiasmo e partecipazione da parte dei palermitani per la mia candidatura, si apre un'indagine su di me. L'ex deputato regionale del PD ricorda di essersi dimesso dall'ARS circa un anno e mezzo fa denunciando l'abbassamento della tensione morale all'interno del Parlamento siciliano. Mi preme informare subito i cittadini e i miei elettori, ha commentato ancora Ferrandelli, per il grande rispetto che ho per loro e al tempo stesso rassicurarli della mia assoluta estranetà ai fatti. Il candidato sindaco comunque ha ribadito di voler andare avanti, anche se, come era prevedibile, la notizia dell'indagine ha subito fatto alzare un polverone. Da Bruxelles, l'eurodeputato del Movimento 5 Stelle, Ignazio Corrau, gli chiede di ritirarsi dalla competizione. Se è strano o come dice di essere, ha detto Corrau, si affretti ad allontanare tutti i dubbi, altrimenti sarà costretto a correre con un'ombra enorme sul proprio operato. A pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca, ha commentato invece Gianfranco Miccichè, commissario di Forza Italia in Sicilia, aggiungendo che l'avviso ad orologeria che ha raggiunto Fabrizio Ferrandelli ci lascia alquanto perplessi circa l'atteggiamento di certa magistratura. L'assessore regionale al turismo, Antony Barbagallo, ha illustrato il DDL che disciplina e aggiorna la normativa del comparto turistico. Facendo seguito agli stati generali del turismo, abbiamo depositato il disegno di legge, che è un disegno di legge atteso, che mette ordine tra le strutture ricettive turistiche, alberghiere, extraalberghiere, e un disegno di legge andesignato anche rispetto alla normativa nazionale, perché discipliniamo la sharing economy con un capo apposito e poi prevediamo le sanzioni. Abbiamo più volte detto in tanti anni che uno dei problemi principali dell'offerta turistica siciliana è la mancata comunicazione dei dati da parte di alcune strutture extraalberghiere. Abbiamo previsto delle sanzioni, delle sanzioni corpose e quindi il disegno legge servirà a mettere ordine e a rilanciare il turismo. La Sicilia è una terra poco abituata a gestire le emergenze a neve, è un'emergenza che dura dai primi giorni di dicembre, però le presenze vicino alle piste, alle strutture ricettive, i dati che abbiamo noi sono assolutamente positivi rispetto allo scorso anno. Questo sull'Etna? Sull'Etna, le piste di risalita sono sull'Etna, quindi per la parte di destagionalizzazione sciistica, quindi sicuramente il dato è positivo. Ovviamente c'è il tema della gestione dell'emergenza a neve su tutto il territorio siciliano, ancora oggi nevica a 500 metri, c'è la neve qua attorno a Palermo, quindi ovviamente la gestione dell'emergenza è un tema attualissimo. Le richiedute nel momento in cui si dovesse andare all'applicazione saranno notevoli, fortemente notevoli e ancora di più, riordinando il settore, si può avere l'effetto moltiplicatore, perché c'è la possibilità di incrementare, con l'incremento e soprattutto con regole chiare potremmo avere naturalmente l'aumento degli occupati e soprattutto parleremo finalmente di occupazione in quel settore dove c'è stata finora poca chiarezza di rapporti di lavoro che potranno vedere la tutela dei diritti dei lavoratori. Operazione Antimafia Catania arrestati tre boss di spicco del clan Santa Paola Ercolano, in manette anche Maurizio Galletta, esponente di primo piano del clan. Operazione Antimafia della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, che su delega della locale DDA sta eseguendo provvedimenti di custodia cautelare contro il clan Santa Paola Ercolano. Tra i destinatari del provvedimento c'è anche il boss Maurizio Galletta, ritenuto dagli investigatori un esponente di primo piano di Cosa Nostra e altri due indagati affiliati alla criminalità organizzata. Coinvolti nell'indagine anche medici che a vario titolo avrebbero favorito il boss, avrebbero cioè falsamente attestato patologie per consentire all'esponente mafioso di godere di misure cautelari più attenuate. Medici, pubblici e privati avrebbero emesso certificati medici che secondo l'accusa attestavano un quadro clinico più grave dell'indagato. Su disposizione della DDA Etnea è stata eseguita un'acquisizione di documenti anche al Policlinico Universitario di Catania. Nel mirino degli inquirenti, coordinati dal procuratore Zuccaro, sono finiti anche noti professionisti catanesi, secondo quanto fa sapere la DIA, che a vario titolo avrebbero favorito il boss. Maurizio Galletta, che faceva parte del gruppo di fuoco del boss Zuccaro, è stato condannato definitivamente per tre omicidi. Giovedì 19 gennaio, a Catania la polizia ha disarticolato un'organizzazione mafiosa che gestiva un traffico di droga da 100.000 euro al mese. Su delega della procura distrettuale della Repubblica di Catania, la Polizia di Stato ha in corso di esecuzione un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 16 persone ritenute responsabili a vario titolo dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso, associazione per delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio. Le indagini condotte alla squadra mobile di Catania hanno permesso di disarticolare un gruppo criminale che sotto legida dell'organizzazione mafiosa Cappello Bonaccorsi gestiva un fiorente traffico di sostanze stupefacenti ed una piazza di spaccio nel rione cittadino di San Cristoforo secondo un consolidato modello di tipo militare costituito da un articolato modulo di vedette, pusher e custodi della droga. Lo smercio della droga ceduta a singole dosi o in pezzature più grandi poteva fruttare mensilmente fino a 100.000 euro. Le indagini sono state avviate dagli agenti della squadra mobile e dai colleghi del commissariato San Cristoforo tra ottobre 2013 e giugno 2014. A capo dell'organizzazione c'era Sebastiano Sardo. Le indagini supportate da attività di videoriprese hanno evidenziato che l'associazione diretta da Sardo era organizzata sul territorio dei suoi fratelli Carmelo e Luca Davide da Francesco Boncaldo e Francesco Troina che gestivano la piazza di spaccio attraverso un articolato sistema di tipo militare composto appunto da pusher, vedette e custodi dello stupefacente. Sardo, come capo del suo delizio, si occupava del pagamento degli stipendi e gli affiliati, sia liberi che detenuti, occupandosi anche delle spese legali. Armi, cocaina e marijuana, vasta operazione dei carabinieri tra le province di Catania e Messina 19 le ordinanze cautelari Vasta operazione dei carabinieri tra le province di Catania e Messina 19 le ordinanze cautelari di cui 13 in carcere, 4 ai domiciliari e 2 all'obbligo di presentazione. Gli indagati sono ritenuti irresponsabili a vario titolo di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti detenzioni illegali di armi di a fuoco e altri reati. Le ordinanze sono state firmate dal GIP di Messina su richiesta della competente direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo L'inchiesta, denominata doppia sponda ha permesso di scoprire l'operatività di due gruppi criminali attivi nel territorio di Messina I gruppi gestivano un vasto narcotraffico anche grazie agli stretti collegamenti con esponenti di vertice di alcuni sodalizi mafiosi catanesi In particolare le indagini hanno consentito di delineare gli assetti interni della consorteria indagata e le responsabilità dei singoli associati in ordine all'approvvigionamento e alla commercializzazione di ingenti partite di cocaina e marijuana destinate alle principali piazze di spaccio dell'Interland messinese Vertenza Almaviva ha raggiunto al Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo per evitare i trasferimenti a rende dei lavoratori che a Palermo erano impegnati nella commessa Enel passata adesso ad Ex Privia Ottime notizie per i lavoratori Almaviva di Palermo è stato raggiunto infatti al Ministero dello Sviluppo Economico l'accordo per evitare i trasferimenti a rende Dopo un'infinita trattativa stavolta anche con i sindacati l'intesa è stata siglata alla presenza del Vice Ministro Teresa Bellanova e dei segretari nazionali e provinciali dei sindacati e dell'azienda Almaviva i trasferimenti sono stati annullati perché Ex Privia si è convinta ad assumere altre 30 persone per la gestione della commessa Enel gli altri lavoratori rimangono invece in Almaviva non appena saranno comunicate le dimissioni dei 30 lavoratori per il passaggio ad Ex Privia Almaviva annullerà i trasferimenti lo riferisce il segretario dell'SLCCGL Maurizio Rosso che aggiunge siamo soddisfatti è stato raggiunto finalmente un equilibrio abbiamo percorso affatica questa strada ma alla fine è prevalza la ragione soprattutto ha vinto la volontà di assicurare la salvaguardia dei lavoratori e del lavoro nel territorio evitato dunque il disastro che poteva comportare un trasferimento non deve più accadere ha detto Daniela De Luca segretario CISL Palermo Trapani che i lavoratori paghino per la mancanza di regole di certezza nel settore dei call center il governo dopo l'impegno di oggi si attivi subito per il riordino atteso da tempo bisogna dare segnali chiari per assicurare il futuro di tutti i lavoratori siamo molto contenti del raggiungimento di questa intesa ha commentato a core il sindaco di Palermo Leo Luca Orlando l'amministrazione comunale ha costantemente seguito la situazione per scongiurare che tante lavoratrici e lavoratori vedessero una così pesante penalizzazione della propria condizione con un trasferimento forzato presso altra sede per loro c'è ora la possibilità di guardare al futuro con maggiore serenità venerdì 20 operazione della guardia di finanza sequestrato il tesoretto degli eredi di Brancato era stato nascosto ad Andorra con 39 bonifici il nucleo di polizia tributaria della guardia di finanza di Palermo ha sequestrato nel principato di Andorra somme di denaro e gioielli del valore di circa un milione e mezzo di euro il sequestro è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo nei confronti della moglie e delle figlie di Ezio Brancato deceduto nel 2000 e fino al 1981 funzionario della regione siciliana questi aveva effettuato nel corso degli anni investimenti in società operanti nel campo della metanizzazione sia in Sicilia che in Abruzzo ed era socio del cosiddetto Gruppo Gas di Palermo la cui attività era stata costantemente controllata e favorita illecitamente da Vito Ciancimino e Bernardo Provenzano nel gennaio 2004 il Gruppo Gas era stato venduto alla multinazionale spagnola Gas Natural per un valore di oltre 115 milioni di euro dei quali oltre 46 milioni di pertinenza della famiglia Brancato nel marzo del 2016 sulla base delle informazioni scambiate tra le fiamme gialle le autorità di polizia andorrane per il tramite dell'ufficiale di collegamento della Guardia di Finanza presso l'ambasciata d'Italia a Madrid sono state parallelamente avviate indagini nei confronti della famiglia Brancato per trasferimento fraudolento di valori in Italia per riciclaggio nel Principato l'attività investigativa svolta all'estero ha permesso di scoprire che il marito di Monia Brancato ha nell'anno 2013 aperto 5 conti correnti bancari presso 4 istituti di credito del Principato di Andorra e 2 cassette di sicurezza i conti sono stati alimentati con 39 bonifici bancari disposti da banche spagnole ed effettuati in soli due mesi tra il giugno e l'agosto del 2013 ovvero immediatamente dopo il primo sequestro disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Palermo che risale al maggio dello stesso anno a Palermo la Polizia di Stato ha sequestrato beni per oltre un milione di euro ad un pregiudicato palermitano contiguo a Cosa Nostra la Polizia di Stato ha effettuato un ingente sequestro patrimoniale per un valore complessivo di oltre un milione di euro nei confronti del pregiudicato palermitano Giuseppe Fascella l'uomo nell'ottobre del 2014 è stato arrestato nell'ambito dell'operazione denominata convenzionalmente vai e vieni con la quale è stata disarticolata una consorteria criminale dedita al traffico di sostanze stupefacenti su vasta scala come emerso nel corso delle indagini della squadra mobile l'organizzazione si fondava essenzialmente sui due gruppi criminali facenti capo alle famiglie di sangue di Francesco Fascella detto Ciccio già capo famiglia della zona della guadagna uomo d'onore del mandamento di Santa Maria di Gesù e di Piero Fascella questi ultimi rispettivamente zio e padre di Giuseppe Fascella i quali impiegavano consistenti risorse finanziarie nel settore del narcotraffico importando dalla Campania e da Milano grandi quantità di cocaina ed eroina che poi procedevano a vendere ai pusher palermitani un importante ruolo nell'ambito di questa organizzazione è stato svolto proprio da Giuseppe Fascella l'indagine patrimoniale è stata condotta dagli investigatori della sezione misure di prevenzione della questura di Palermo ed ha permesso di individuare successivamente sequestrare una lussuosa villa in via San Bernardo da Corleone a Villa Grazia di Palermo del valore stimata di circa un milione di euro gli accertamenti patrimoniali hanno dimostrato infatti come sia Giuseppe Fascella che la moglie quest'ultima formale intestataria dell'immobile non disponevano di entrate lecite sufficienti per l'acquisto dei beni oggi raggiunti al provvedimento del Tribunale di Palermo in particolare emerso nel corso delle indagini come l'irrisoria capacità reddituale dichiarata dai coniugi Fascella non abbia potuto consentire agli stessi di approntare non solo gli elevati costi di realizzazione della villa ma addirittura ha reso assolutamente sperequato persino l'acquisto del terreno dove è stato realizzato l'immobile in violazione delle norme in materia urbanistica la regione è seduta sulla bomba d'orologeria di una serie di questioni indifferibili dagli appalti ai rifiuti al patto per la Sicilia ma governo e assemblea sembrano preferire il disarmo e la chiusura di una legislatura farsa la CIS Sicilia Roma alzi la voce con Palazzo d'Orlean finiamola con questa legislatura farsa Parlamento e governo regionali si mostrino all'altezza delle emergenze nelle quali la Sicilia affoga o se ne vadano e prima di Pasqua si voti è un documento dai toni aspri quello con cui la CIS Sicilia punta il dito contro la classe politica regionale che si accinge ad archiviare una legislatura senza una riforma degna di questo nome alla palude politica preferiremmo il sussulto di dignità dei parlamentari si legge nel documento che invita l'Arsa a darsi una mossa attraverso una corsia preferenziale parallela alla sessione di bilancio che consente di far fronte subito alle questioni indifferibili dagli appalti ai rifiuti al patto per la Sicilia l'isola dice Mimmo Milazzo segretario della CIS regionale seduta su una bomba d'orologeria e per questo anche al governo nazionale che domani sarà in Sicilia con il ministro per la coesione Claudio De Vincenti chiediamo di alzare la voce con Palazzo d'Orlean perché scrive la CIS se il governo regionale una maggioranza all'Arsa ce l'ha governi se non ce l'ha si vada al voto senza attendere l'autunno gli urega per un verso e rifiuti per un altro rileva il sindacato sono gli emblemi di una stagione politica fallimentare nella quale persino l'unica riforma fatta quella su liberi consorzi e città metropolitane fa acqua da tutte le parti e con l'eventuale reintroduzione dell'elezione diretta tornerebbe come nel gioco del local al punto di partenza riguarda gli appalti se l'Arsa non approva ora la riforma degli urega si legge nella nota della CIS l'isola perde 3,2 miliardi del patto per la Sicilia che in gran parte dovrebbero essere spesi entro quest'anno ebbene ha fatto il presidente dell'Arsa Giovanni Ardizione puntualizza Milazzo a fissare per martedì in ogni caso la discussione sul tema idem sul fronte della depurazione delle acque e su quello dei rifiuti in tema di monnezza nota la CIS che il sistema con la brodo degli ato registra 1,8 miliardi di debito la raccolta differenziata sul piano regionale ferma al 13% e che in assenza di impianti per il recupero energetico la Sicilia è rimasta l'ultima in Europa a conferire in discarica gli scarti così nel giro di qualche mese rimarca il sindacato e comunque prima della pausa estiva la Sicilia si ritroverà di fronte a un bivio l'esplosione delle discariche ormai sature o il trasporto fuori dalla regione con costi esorbitanti ed è tutto grazie per essere stati con noi vi auguro ancora una buona domenica arrivederci grazie a tutti grazie a tutti